Ben ritrovati all'appuntamento. Con la nostra informazione è un processo ormai irreversibile. Salerno sta cambiando pelle, sempre meno industriale e sempre più orientata verso il turismo. Mancano però strutture adeguate per compiere il definitivo salto di qualità. Sotto le luci c'è spazio per tutti. L'idea di utilizzare e cavalcare l'onda lunga dell'evento sta solleticando l'interesse di molti operatori turistici, ma non solo. Non è un caso allora che si stia assistendo in questi ultimi anni a concentrare nel periodo a cavallo tra novembre e gennaio il maggior numero di eventi fieristici e congressuali. La certezza di poter spendere al meglio l'idea di una città che nel periodo delle luci offre il meglio in termini di presenza e vivacità commerciale è un volano formidabile per qualsiasi tipo di iniziativa. Fa la sua parte il comune di Salerno, molto fanno gli operatori commerciali, i privati, che così riescono a cogliere l'opportunità offerta loro praticamente a costo zero. L'idea più volte manifestata dall'amministrazione comunale resta quella di creare una filiera virtuosa che metta insieme un po' tutte le componenti, un circolo virtuoso che partendo dalla cosa pubblica arrivi diritto agli operatori privati. Il filone è quello giusto, soprattutto se collegato poi al turismo crocieristico che procede di pari passo, ma c'è un mar rappresentato dalla scarsa offerta alberghiera. Per quanto sia cresciuto a dismisura il numero di band and breakfast lungo tutto il perimetro cittadino, è tangibile la carenza di strutture alberghiere in grado di assicurare il necessario numero di posti letto dove poter ospitare turisti, visitatori, uomini d'affari presenti in città per lavoro o per svago, neanche a parlarne poi di strutture dove poter organizzare fiere, eventi o semplici congressi. In questo caso l'offerta si riduce ancora di più ed in maniera considerevole, ed è questa la vera pecca, il vero limite che oggi frena il definitivo sviluppo della città turistica a tutto tondo. L'assenza di spazi e strutture di qualità, dove veicolare eventi e persone rischia così di vanificare l'effervescenza, la vivacità di chi oggi immagina di poter investire le proprie risorse, il proprio futuro nel settore turistico. Forse siamo al punto di non ritorno. E intanto tra gli vari eventi che vengono organizzati in città, oltre alle luci d'artista c'è l'evento collaterale legato ai mercatini. Si continua a lavorare su questo fronte dopo l'assegnazione a Buongiorno Italia. Domani è in programma un incontro con i commercianti e l'assessore al ramo Dario Loffredo. Si cerca soprattutto di trovare anche una soluzione per le due aree che restano escluse per scelta di Buongiorno Italia dall'allestimento degli chalet natalizi. È in programma domani pomeriggio alle 16 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno un incontro tra l'assessore al commercio Dario Loffredo e i responsabili di Buongiorno Italia, la società vincitrice del bando per la realizzazione dei mercatini di Natale, che si confronteranno con i commercianti che hanno scelto di essere presenti tra gli stand che verranno allestiti in sette aree diverse della città. Oltre ad esporre i dettagli, gli eventi collaterali che accompagneranno la manifestazione, Loffredo ribadirà il concetto di avere solo merce di qualità e attinenti al Natale. Nello stesso tempo l'assessore al commercio sta cercando di recuperare le due aree escluse per scelta di Buongiorno Italia dalla presenza di mercatini a Torrione e Mercatello. Gli operatori dei commercianti di Torrione, i quali mi hanno richiesto che la vincitrice del bando aveva scelto sette zone su nove e la zona tra via Posidone e via Rofino non era stata scelta dal vincitore del bando. Ci hanno chiesto se potevamo adoperarci affinché la società vincitrice poteva pensare di credo che in questo momento mi adopererò per dare la possibilità anche a Torrione, il tratto che va da via Posidone e via Rofino, di avere le proprie casette di Natale in modo di creare anche a Torrione movimento ed economia attorno al commercio. Come pensa di farlo? Credo chiederò e chiederemo al vincitore a Buongiorno Italia di prendere in esame la possibilità di mettere le casette di Natale anche in quella zona e cercheremo appunto, già che chiediamo noi un piacere a chi ha vinto, cercheremo di venire incontro come possiamo per quanto riguarda degli sconti sull'occupazione di solo pubblico e altro, perché il comune vuole stare vicino anche ai commercianti a Torrione, quindi ci teniamo che anche quella parte della città possa avere il suo momento di ristoro economico. Sessore, invece per quanto riguarda l'altra area, quella della zona del parco del mercatello, lì invece si è deciso di concentrare la sosta dei camper, quella diventerà area esclusiva per chi raggiungerà la città in camper? Come dice lei abbiamo deciso di spostare l'area camper per tre motivi, innanzitutto è un'area molto più accogliente per i camperisti che vengono nella città e logisticamente è più facile da raggiungere perché siamo all'uscita della tangenziale quindi molto meglio collegata e terza cosa, a disposizione del neomercatino di via Lungomare Marconi recupereremo altri 100 posti auto perché non solo sarà spostata l'area camper ma sarà spostata anche la postazione delle macchine di Salerno Mobilità, delle macchine che vengono prese dal carattrizio, quindi 100 posti più a disposizione del mercato di Torrione, dei negozi di Torrione, dei commercianti, dei cittadini e che vanno a rimiguare ancora di più i posti auto della città di Salerno. E a proposito di grande iniziative che hanno in mano in questi giorni, il Comune Capoluogo è atteso il ritorno con la sua ventitresima edizione per sposi ma non solo. Il taglio del nastro è in programma domani, questa mattina la presentazione con tutte le novità di questa edizione. Rappresenta dal 1995 l'occasione imperdibile per tutti gli operatori intenzionati ad arricchire il proprio portafoglio e potenziare la propria immagine aziendale attraverso il rapporto diretto con i clienti e il confronto con le altre aziende. Torna da domani fino al 13 novembre la ventitresima edizione di Sposi ma non solo, ospitata presso i padiglioni fieristici del centro agroalimentare di Salerno, in via Mecio Gracco dove si metteranno in vetrina oltre 80 aziende. Tante aziende, tanti artigiani, tanti singoli imprenditori, tanti gruppi potessero sempre di più crescere e potessero sempre di più soddisfare quelle che sono le esigenze delle coppie che affrontano questo momento così importante. Io voglio ricordare che la nostra provincia, la città di Salerno, si pone ai vertici della classifica nazionale per quello che riguarda in maniera percentuale i matrimoni realizzati. Ci troviamo al centro delle due costiere, arrivano a sposarsi dall'America, dall'Australia, dall'Inghilterra, in costiera amalfitana. La città di Salerno, anche come capoluogo, vede tante location essere scelte per celebrare il rito. Madrina della manifestazione, la salernitana Vincenza Botti di Vallo della Lucania che dopo l'affermazione al primo concorso di bellezza nazionale Miss Italia lavora ora nel campo della moda. Ma c'è anche un'altra miss davvero speciale, Benedetta De Luca, 28enne di Sala Consilina, nata con un handicap fisico che le impone di vivere su una sedia a rotelle. Ci sarà anche lei in una speciale sfilata che tra l'altro vedrà quest'anno celebrare 100 anni di abiti da sposa made in Salerno con la casa di moda Bignardi e Bignardi. Una rassegna storica sulle finaliste di questo concorso di sposo in Manuzzolo. Magari gli abiti saranno un po' ingialliti ma ce lo perdonerete, sono passati 100 anni. Ma non solo, torna a dare anche prestigio e mettere in vetrine i giovani talenti grazie allo smart. Sì, infatti questo è, l'abbiamo iniziato nel 2015, la collaborazione proprio attiva e quest'anno presentiamo un bel progetto con dei giovani stilisti emergenti, in più una collaborazione con una stilista che arriva da Bucarest per creare delle opportunità inerenti anche al progetto Sposi ma non solo. E anche questa edizione conferma la partnership con MSC. Sposi ma non solo, chiaramente la partnership è veramente qualcosa che porta anche bene, insomma nel tempo abbiamo confermato questa partnership, quest'anno presentiamo grosse novità di prodotto. Abbiamo due navi a Cuba che riusciranno così ad allietare viaggi di nozze di parecchi sposi. A fare da contraltare alla viva città degli operatori turistico-commerciali ci sono poi le difficoltà vissute dall'industria, tra le ultime a sopravvivere l'episano per i noti problemi ambientali ora sono a un passo dall'addio al territorio. Il rovescio della medaglia di una città che è digerita anche se affatica la crisi dell'industria sta lentamente ma inesorabilmente provando a cambiare identità e vocazione rappresentata dalla vicenda legata alle fonderie pisano. In questo caso parliamo di un'azienda che non aveva problemi economici, che anzi aveva margi di crescita assolutamente importanti e che ha dovuto chiudere i battenti per vicende altre, nello specifico l'inquinamento prodotto dalle emissioni. Incassato il no alla riapertura anche parziale dello stabilimento, le fonderie si avviano inesorabilmente verso una chiusura definitiva anche se i pisano mantengono ancora una velata speranza per quello che di fatto è l'ultimo appuntamento della vicenda, ovvero il ricorso al riesame previsto per fine mese. Un amaro destino attende gli operai e più in generale l'intero processo indossiale anche perché ad aggravare la situazione sta provvedendo l'ostracismo che accompagna il know-how della Pisano, i cui tentativi di immaginare nuovi siti dove poter delocalizzare un nuovo impianto ad impatto zero sono stati puntualmente bocciati dal giudizio delle comunità di volta in volta sollecitate. E così Campagna ha alzato le barricate di fronte ad un possibile nuovo insediamento, altrettanto avevano fatto in precedenza i comuni di Giffoni e Buccino. Ci stanno invece riflettendo battipaglie deboli, soluzioni interessanti ma caratterizzate da un iter che sembra troppo lungo. E non è un caso allora che Ciro Pisano stia prendendo in seria considerazione l'ipiotesi di chiudere definitivamente con il territorio salernitano per emigrare altrove. Se non sarà possibile lavorare sul nostro territorio, ha detto, ce ne andremo perché non abbiamo intenzione di fermare l'attività industriale. Queste le parole dell'imprenditore a marge dell'Assemblea pubblica di Confindustria facendo chiaramente intuire che il vero piano B dell'episano, oggi come oggi, è rappresentato da una fuga dalla Campania. Salvatore Giordano è il nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Salerno. A lui toccherà il compito di rilanciare e innovare uno tra gli ordini professionali più importanti e strategici per il territorio salernitano. L'elezione a presidente dà anche il via ad un rinnovo generazionale. È stata una battaglia bella, penso anche abbastanza intensa, emozionante, che ha visto poi alla fine, insomma, rispettare quello che era stato un po' un pronostico fatto dalla base. Salvatore Giordano è il nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Salerno. Ecco, quanta soddisfazione c'è in questo conferimento, in questa vittoria? No, tantissimo, perché sono quattro anni che noi siamo sul pezzo dalle precedenti elezioni. Quindi io devo ringraziare tutti i colleghi, perché su 1307 persone abbiamo avuto 817 persone che hanno votato per noi il 62%, quindi è chiaro che la soddisfazione è massima, ma soprattutto vorrei anche ringraziare il candidato presidente dall'altra parte, Lello D'Arienzo e la squadra, perché sono riusciti insieme a noi a portare l'87% delle persone a votare, che secondo me è un grandissimo segno di democrazia. Quindi adesso la responsabilità è tanta, perché l'aspettativa c'è sulla mia persona, sulla squadra, è ovviamente una grandissima soddisfazione. Ecco, qua come e in che modo cambierà l'ordine dei commercialisti salernitani nelle idee di Salvatore Giordano? Le prime cose che faremo sono tutte basate sulla trasparenza, quindi sicuramente dei regolamenti, regolamenti per il funzionamento dell'ordine, regolamenti per la formazione continua, regolamento per l'estrazione o comunque per l'individuazione, diciamo, per quanto concerne gli incarichi. Queste sono le primissime cose. Poi, naturalmente, un miglioramento della comunicazione per la figura del dottor commercialista, esperto contabile, cioè sicuramente attore dell'economia, insomma, e quindi della provincia di Salerno e non come probabilmente fino ad adesso, quindi subite passivamente, abbiamo subito troppo passivamente da alcuni professionisti quello che accade intorno a noi. Ecco, il fatto che abbiano votato così tanti commercialisti salernitani, mi dicevi l'87%, ecco, testimonia proprio di un'attesa importante riposta nella figura del Presidente del nuovo Consiglio. Sì, soprattutto, probabilmente perché io sono una persona che riesce a stare molto in mezzo alla gente, quindi forse un avvicinamento dei vertici alla base che è fondamentale per sentirsi a casa propria, all'ordine, piuttosto che sentirsi parte integrante di un'istituzione e di una professione che sicuramente insieme a quelle degli avvocati, dei notari e quant'altro dovrebbe, ripeto, essere attore dell'economia, cercare di migliorare il substrato economico che per la verità con la crisi che c'è veramente ci sta distruggendo anche a noi professionisti. La cronaca in autostrada con 26 kg di hashish in auto, due pregiudicati, Domenico Patania e Nicola Monteleone di 34,53, quest'ultimo tra l'altro ex guardia giurata, originari del Vibonese, sono stati per questo motivo arrestati a sala Consilina dai carabinieri particolari nel servizio. Maxi operazione antidroga dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di sala Consilina coordinati dal tenente Davide Acquaviva, un'operazione degli uomini della radiomobile che ha consentito di scoprire un traffico di sostanza stupefacente proveniente dalla Calabria con il sequestro di ben 26 kg di droga pronta per la distribuzione. I militari dell'arma sono impegnati nell'intensificare le attività potenziando i controlli in materia antidroga con controlli eseguiti anche sui traffici veicolari dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Durante tali controlli effettuati nelle ultime ore, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nella notte hanno tratto in arresto e in flagranza di reato due uomini pregiudicati, uno di 34 anni e uno di 53 anni, con l'accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Gli uomini, originali di Vibo Valencia, di cui uno ex guardia giurata, sono stati fermati dai carabinieri del Nord presso l'area di servizio Sala Consilina Est, sottoponendoli a controlli e perquisizione anche veicolare. La gazzella dei Nord al comando del tenente Acquaviva, nell'ambito dei controlli sulla vettura dei due che provenivano dalla Calabria e viaggiavano in direzione Nord, hanno rinvenuto, debitamente occultati nel vano bagagli dell'auto, un borsone contenente ben 250 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 26 kg. I panetti erano stati confezionati in modo tale da impedire che unità cinofile potessero avvertirne l'odore avvolgendole in un grande quantitativo di nastro adesivo e successivamente ricoprendo gli stessi di palloncini colorati in gomma, in tal modo l'odore forte dei palloncini avrebbe impedito il rilevamento del contenuto. Ma il tentativo dei malviventi di occultare l'ingente quantitativo di droga non è stato sufficiente per i garabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina, che al momento della sosta in autostrada hanno sottoposto i due duratenta verifica, permettendo così di individuare e sequestrare la sostanza stupefacente, molto probabilmente proveniente dalla malavita calabrese, che una volta messa sul mercato avrebbe vuttato un introito di circa 200.000 euro. I due sono quindi stati arrestati e dopo le operazioni di fotosegnalamento sono stati tradotti presso la cassa circondariale di Forni Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Un'operazione che ancora una volta evidenzia l'ottimo e fondamentale lavoro svolto dai militari della compagnia di Sala Consilina, che proseguono in intensi attività e controlli dediti proprio al contrasto dei reati legati all'uso e allo spaccio di sostanza stupefacente in questa parte del territorio. Aria peraltro delicata trovandosi al confine tra Calabria e Campania. Intanto allarme sicurezza a Cava dei Tirreni. Diverse attività commerciali nel centro metelliano sono state oggetto di furti negli ultimi giorni. Ieri un ulteriore tentativo di rapina ad un noto bar tabaccheria. Allarme sicurezza a Cava dei Tirreni. A minare la tranquillità della città metelliana negli ultimi giorni infatti sono state una serie di furti ai danni di attività commerciali. Ieri, martedì 8 novembre, un ulteriore tentativo di rapina è stato fortunatamente sventato. Due malviventi, incappucciati, poco dopo le 20.30, hanno fatto irruzione nel noto bar tabaccheria massa di Vionofrio di Giordano, intimando il proprietario, un 55enne cavese, di consegnare loro tutto l'incasso. Nonostante la pistola puntata addosso, l'uomo, anziché cedere alle minacce, ha reagito. Conseguenza dell'inatteso gesto coraggioso dell'esercente è stata l'aggressione dei malfattori, che l'hanno colpito alla testa con il calcio della pistola di piccolo calibro in loro possesso. Il trambusto ha subito ricamato l'attenzione di residenti e commercianti locali, che, avvedutisi della rapina in corso, hanno avvertito le forze dell'ordine ed il 118. Le sirene dell'ambulanza e delle volanti immediatamente accorse hanno costretto i ladri, spaventati, a fuggire a mani vuote. Giunti sul posto, gli uomini della Croce Bianca di Vietri hanno condotto il proprietario della tabaccheria, che ha riportato una ferita all'acero contusa alla testa, in ospedale per le necessarie medicazioni. I carabinieri della locale tenenza e gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato invece i primi rilievi, in attesa di passare al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire all'identità dei malviventi. Nei giorni scorsi, inoltre, oggetto di rapine in serie, sono state alcune attività ortofrutticole del centro. La dinamica dei reati è sempre la medesima, serranda scassinata e furto di attrezzature ed eventualmente provventi conservati nel negozio. I cittadini sono terrorizzati per questa nuova recrudescenza di reati predatori e chiedono all'amministrazione e forze dell'ordine maggiore tutela. Ancora una notizia di cronaca, i carabinieri di Sapri sono riusciti a risalire agli autori di alcuni furti che sono stati perpetrati quest'estate in alcune scuole di Sapri. In particolare, in uno di questi era stato sottratto il PC che i docenti dell'Istituto Santa Croce utilizzavano in aula multimediale con varie classi. I carabinieri sono risaliti all'identità di alcuni autori, per lo più minorenni, mentre altri sono ancora in corso di identificazione. È importante però che è stata recuperata parte della rifurtiva e il materiale tecnologico trafugato, compreso proprio il computer del quale parlavamo, restituito alla dirigente dell'Istituto che in questa maniera ha potuto far riprendere le attività multimediali della scuola. È in programma domani alle 16 al Comune di Salerno l'iniziativa con la quale anche la nostra città aderirà la giornata nazionale del diabete. Ne abbiamo parlato con Pachimemoli. Domani è una giornata dedicata al diabete in occasione della giornata mondiale del diabete. Abbiamo voluto organizzare con i pazienti diabetici un momento di sensibilizzazione su questa patologia perché ormai l'OMS addirittura l'ha definita una pandemia. La pandemia era un termine che in genere veniva dedicato alle malattie infettive. Proprio adesso per questa grossa diffusione che noi abbiamo in Italia, più di 3 milioni di italiani sono affetti da questa patologia e quindi noi vogliamo tenere gli occhi aperti sullo stile di vita per cercare di stare bene anche in futuro e non a caso abbiamo voluto segnalare l'importanza dell'attività fisica, non solamente per migliorare il controllo metabolico ma soprattutto perché l'attività fisica, il movimento, rafforza anche la stima in noi stessi. È un momento diciamo di fratellanza. Infatti in questa occasione noi avremo la testimonianza di alcune persone che attraverso la malattia, quindi attraverso lo sport, sono riusciti a superare momenti difficili. Quindi avremo come testimonian della nostra manifestazione Pina Testa e poi avremo Claudia Mandia, chiedo scusa, che è la campionessa di tiro dell'arco che ci ha rappresentati alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. E in più l'importanza dell'alimentazione. Vogliamo sfatare questo mito che la pasta fa ingrassare. Questo non è vero perché la pasta non contiene un indice glicemico praticamente alto, quindi mangiata in quantità normali sicuramente ci dà una sensazione di benessere perché peraltro all'interno della pasta è contenuto il precursore, il tripotofano, che è il precursore dell'ormone del benessere della serotonina. E l'imprenditore De Martino del pastificio amato ha voluto omaggiare tutti i pazienti diabetici della pasta del pastificio amato. Quindi giovedì ci sarà anche questa consegna della pasta, dimostrazione che la pasta non fa ingrassare. Il riferimento anche ad un evento che è stato, che si è realizzato qualche settimana fa, che è la giornata mondiale della pasta, quindi la pasta DEI. Una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Andiamo nel Cilento, dove è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che riguarda la fascia donale distrutta sulle spiagge. Un esposto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il presidente del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Dalburni, Tommaso Pellegrino, al prefetto di Salerno, su una presunta compromissione di una fascia donale in località Le Saline di Palinuro, frazione del comune di Centola Bandiera Blu e in zona protetta del parco. Lo ha inviato Paolo Abbate, attivista del WWF Campania. Secondo la denuncia, corredata dalle foto che stiamo vedendo, tre lidi balneari, malgrado le numerose segnalazioni, sarebbero stati allestiti anche quest'anno sulla duna ricca di vegetazione psammofila con giglio di mare, distruggendola in modo grave. Lo smontaggio dei lidi risulta, sempre per Abbate, compromettere l'area protetta. Infatti circa 100 pali infissi in profondità nella sabbia sono stati lasciati sul posto, ricoperti di materiale di plastica per preservarli durante l'inverno e ritrovarli la prossima stagione balneare. Buche profonde risultano presenti nell'area dunale, inoltre è uno strato di pietrisco e stato sparso sul retro duna per allestire un parcheggio auto di pertinenza dei lidi. Il WWF aveva a maggio scorso suggerito, dopo un colloquio con il direttore del parco di vita, di allestire i lidi fuori della duna, protetta da leggi nazionali ed europee, e provvedere al raggiungimento del mare con pedane in legno, attraversando così la duna senza danneggiarla. Abbate chiede pertanto di verificare quanto segnalato nell'esposto e che venga ripristinato lo stato originario del luogo protetto. Noi invece ci chiediamo, a parte l'unica voce di Abbate, cosa abbiano fatto finora le istituzioni e soprattutto le altre associazioni ambientaliste del territorio su questo e su altri scempi nelle aree protette sia sulla costa che nell'entroterra. E adesso la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Cinema, musica, performing art, 360 gradi, experience e arti visive. In programma a Salerno dal 5 al 12 novembre la ventunesima edizione di Linea d'Ombra, il festival culture giovani che propone un viaggio sulla terra alla scoperta del terzo pianeta. Per 8 giorni la rassegna multidisciplinare diretta da Peppe D'Antonio e Luigi Marmo presenta oltre 60 eventi, coinvolgendo varie location, il teatro Agusteo e la sala per Paolo Pasolini e realtà artistiche del capoluogo salernitano. Dal 10 al 13 novembre torno a Sposi, ma non solo, il più importante salone fieristico della provincia di Salerno dedicato alle piccole e grandi cerimonie. Tutto per gli sposi e la loro casa, oltre 100 spazi espositivi, ricco il programma di eventi e defilé. All'interno della rassegna lo speciale concorso di bellezza che leggerà Miss Sposi, ma non solo. L'appuntamento a Salerno presso i saloni del centro agroalimentare. Per informazioni visitate il sito sposimanonsolo.it o la pagina Facebook. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E adesso le previsioni del tempo e poi la nostra informazione sportiva. Prestitalia è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale. Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Previsioni del tempo Fornite da 3B Meteo Ed eccoci con la nostra informazione sportiva. In primo piano la Salernitana e Sannino che si gioca il tutto per tutto domenica contro la Ternana. Il trainer Granata sembra intenzionato a schierare nuovamente i tre tenori dal primo minuto. Coda e Donnarumma in attacco e Rosina alle spalle dei gemelli del gol. Ancora dubbi sulla posizione del capitano e sulla composizione del centrocampo Granata. Un solo obiettivo, tre colpi in canna per battere la Ternana ed allontanare lo spettro della crisi. Coda e Donnarumma insieme, Rosina Mezzala a centrocampo, ieri le prime prove antifere. Prove o tentazioni, sia ben chiaro. Sannino sa bene che la gara con la Ternana in programma domenica prossima alla Rechi è un appuntamento cruciale e che l'unico risultato a sua disposizione è la vittoria. Sarà anche per questo che sta pensando di schierare tutto il potenziale offensivo che si ritrova a disposizione. Ma dovrà anche saperlo posizionare, altrimenti le bocche da fuoco Granata potrebbero sparare ancora una volta a salve. Contro il Trapani, la Salernitana centrò i tre punti adottando un atteggiamento inedito fino a quel momento il 3-4-1-2 con Rosina alle spalle dei gemelli del gol, mentre la vittoria ai danni del Benevento arrivò nel giorno in cui l'ex Catania fu schierato a supporto di Coda nel 3-5-2. Sannino sembra orientato a riproporre il tandem Coda-Donnarumma dal primo minuto senza però rinunciare al talento di Rosina. Il tecnico gli chiederà di illustrare la lampada per farvi uscire il genio che si è visto soltanto a tratti e garantire assistenza alle punte inventando magari qualche giocata che possa risultare decisiva ai fini del risultato. Resta l'Eterno Rebus sulla collocazione tattica per cui il capitano possa rendere al meglio e soprattutto per indovinare i giusti equilibri per supportare tre calciatori offensivi. Sannino dovrà decidere se far riposare in prota e rilanciare la Verone oppure tornare alla difesa a quattro e schierare un centrocampo a tre per sostenere il trio d'attacco senza rinunciare a una certa densità nel settore nevralgico laddove la Sanitana non ha cambio di passo e fatica a recuperare palla. Con il 4-3-1-2 Perico e Vitale sarebbero i Terzini mentre accanto a Bernardini troverebbe posto Mantovani, occhio a Schiavis che scalpita, mentre a centrocampo giocherebbero Oger, della Rocca ed uno tra Ronaldo e Zito nel caso di defezione di Busellato. Con l'ex Ternana in campo invece Sannino potrebbe dirottare della Rocca sul centrosinistra e piazzare Ronaldo in cabina di regia sacrificando Oger. Rosina agirebbe sulla tre quarti a sostegno di Coda e Donnarumma, con la difesa a tre invece Perico, Bernardini e Mantovani sarebbero il centrale, Vitale spingerebbe a sinistra, in prota o la Verone a destra. In mediana della Rocca con Oger e Busellato e Rosina un po' mezzale e un po' rifinitore. Di sicuro la Salernitana dovrà osare per prendersi i tre punti e risalire la classifica spezzando il digiuno di successi che dura da ben cinque partite e regalandosi un pizzico di serenità in lista delle gare con Latina e Provercelli. La Salernitana cambia anche in difesa non tanto in termini di uomini quanto di modulo. Anche oggi il tecnico ha provato la difesa a quattro, ancora out sul fronte infermeria Massimiliano Busellato. Zito sta meglio, le condizioni di Busellato avranno un peso determinante nella scelta del modulo a centrocampo. San Nino torna sui suoi passi o almeno così sembra con la Ternana si cambia ancora. Si torna alla difesa a quattro. Queste le impressioni in questi primi scampoli di allenamenti in vista del match con le fere in programma domenica prossima alla Rechi. Anche stamane il trener Granata ha provato costantemente il pacchetto arretrato con quattro elementi. Ancora assente Busellato invece ha le presa con un problema al polpaccio dalla trasferta di Cittadella. La presenza o meno del centrocampista potrebbe variare lo schieramento della Serenitana nella terra di mezzo. Ha ripreso a lavorare con il gruppo invece Antonio Zito, ma andiamo con ordine. Le principali novità del resto sembrano destinate al pacchetto arretrato che avrà un uomo in più ed un centrale in meno. Anche oggi infatti San Nino ha provato il pacchetto arretrato con Perico restituito al suo ruolo naturale di terzino destro, Bernardini e Mantovani al centro e Vitale sulla corsia di sinistra. Numeri alla mano fatta eccezione per un comunque improbabile ballottaggio tra Mantovani e Schiavi, la Serenitana ha gli uomini contati in difesa. Complice la squalifica di Tuia, la convocazione di Marche in Nazionale Carioca, le bocciature di Franco e Laverone, il tecnico non ha altre scelte. Discorso diverso invece a centrocampo dove molto appunto dipenderà dalle condizioni di Busellato. L'ex cittadella è un pretoriano di San Nino e la sua presenza in campo garantirebbe determinati equilibri allo scacchiere tattico disegnato dal tecnico. Busellato è alle prese con una botta al polpaccio destro rimediata a cittadella e per lui lo staff medico ha prescritto sedute di fisioterapia. Il mediano sarà monitorato giorno per giorno e si spera che il versamento al polpaccio non gli impedisca di scendere in campo domenica. Intanto stamane è stato costretto ancora a mordere il freno. Alchimia parte contro la Ternana. La Salernitana dovrà cercare a tutti i costi una vittoria che manca da oltre un mese. Magari facendo leva sulla voglia degli ex e su quella di golle e di riscatto di Coda, Donnarumma e Rosina, tutte nel segno del tre. Tre come i tre tenori, tre come i punti in palio, tre come gli ex di turno. Vitale, zito e Busellato. Anche il terzino convive da tempo con una lombalgia che ne sta frenando le prestazioni e le scorribbande sulla fascia sinistra, ma dovrebbe ancora una volta stringere i denti per essere della partita. Ieri si è allenato regolarmente con il gruppo ma ha saltato la partitella finale. Per gli altri due ex invece è discorso a parte. Zito è tornato ad allenarsi dopo un'estrazione dentale, mentre Busellato è ancora fermo ai box. Ci fermiamo, una pausa pubblicitaria a tra poco. Ancora calcio con la Paganese che è sotto esame del Foggia e adesso ci sarebbe da esorcizzare i satanelli. La Paganese ospiterà domenica prossima la corazzata Foggia al Marcello Torre, l'undici di mister Grassadonia e reduce dall'importante successo ottenuto domenica scorsa ai danni del Taranto con un secco 1-2. In casa azzurro stellata si predica continuità, probabilmente quella che è mancata a Reginaldo e compagni fino ad oggi per fare il definitivo salto di qualità. La classifica adesso è incoraggiante, grazie ai tre punti conquistati contro il Rosso-Blu, la Paganese è balzata ai margini della zona play-off. Occhio al Foggia naturalmente, una squadra costruita senza badare a spese che punta al salto di categorie e che negli ultimi tempi sta registrando qualche inaspettata battuta d'arresto. Ma si tratta pur sempre di una corazzata, basti pensare che ben 12 punti e dividono le due squadre in graduatoria. Foggia al secondo posto con 25 punti, azzurro stellati nella pancia della classifica a quadra 13. In casa a Paganese mancherà il solo Deli, appiedato per un turno dal giudice sportivo. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.